Via 20 Settembre all'Aquila. La sede dell'ANAS stava lì, si può vedere ancora il fabbricato inagibile, accanto ad un palazzo che quel 6 aprile 2009 è crollato completamente, uccidendo 13 persone. Anche per questo l'inaugurazione della nuova sede, un edificio antisismico realizzato con tutti i criteri di sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, puntando sull'efficienza energetica e sulla sostenibilità, ha una valenza fortemente simbolica come segno di rinascita. Meno di 700 giorni abbiamo realizzato la nuova sede, purtroppo la nostra era inagibile come molti altri edifici di questa città. Abbiamo collegato un po' con la storia di ANAS, sembra quasi una ruota poggiata a terra, il colore rosso ricorda le nostre case cantoniere. Abbiamo cercato di considerare un po' tutto e vogliamo che sia un segnale senza retorica verso il ritorno alla normalità, non soltanto per noi ma per tutta la città e la regione. L'edificio, per il quale sono stati stanziati 13 milioni di euro, è a forma di anello con diametro esterno di 55 metri. Si sviluppa per quasi 7.000 metri quadrati suddivisi in quattro piani. Si tratta della prima opera pubblica che viene ricostruita dopo il sisma, come ha ricordato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli. Per i tempi in cui è stata fatta, per come è stata realizzata con tutte le tecnologie moderne, questa è un po' la dimostrazione che quando c'è la volontà politica si possono realizzare le opere anche in tempi brevi. Credo che, e auspico soprattutto, che questo sia soltanto un punto di partenza e che si veda sempre più spesso realizzare le opere che purtroppo il terremoto aveva abbattuto. Dopo aver visitato con attenzione l'interno della struttura, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, ha voluto ricordare il restauro del monumento delle 99 cannelle, altro simbolo di speranza. Questa è la centesima cannella dell'Aquila, quella dalla quale dovrà tornare a sgorgare non l'acqua, ma la vita operosa di una città che appunto riprende il suo cammino, che si è rimessa in strada e che sulla strada vuol prendere l'abbrivio per tornare a volare, per decollare di nuovo.